ciao sono appena tornato dalle vacanze ho trovato questo probox 2x nella mia portineria è un mini pitch android basato sullo stesso hardware del minix neo x8 disponibile in venda nei negozi online per circa 140 dollari io sto provando la configurazione con 2 gb di ram 16 gb di spazio interno e mmc molto veloce come vedremo dopo nei test ed è una rarità nel settore il soc amlogic s802 di tipo h quindi quello con supporto più avanzato un quad core a 1.99 gb una notazione di porte che è molto interessante che oltre alle solite usb 2.0 micro usb otg lettore micro sd ed ethernet 10 100 ha un'uscita hdmi di tipo 1.4b quindi con che arriva anche la risoluzione 4k per 30 film per secondo la speed if e l'uscita audio video vi arriva questo probox in una confezione che è proprio questa qua molto simile anche qui al minix neo con all'interno un sacco di roba oltre al cavo hdmi da un metro c'è l'alimentatore da 2 2 ampere 5 volte cavettino micro sb per collegarlo il cavo audio video che è una rarità perché solitamente non viene mai inserito nelle confezioni e il suo telecomandino di digestione ir con per sfruttare il sensore ir integrato in più in questo momento provox viene venduto con un controller dedicato che è questo qua è un gamepad da 2.4 gigahertz con giroscopio a 6 assi accelerometro microfonino integrato e possibilità di essere utilizzato come gamepad in pratica si prende questo tasto si passa alla modalità gamepad e si può si inizia si inverte praticamente la direzione del pad direzionale e dei tasti e si può iniziare a giocare il controller solitamente quelli abbinati a questo tipo di dispositivi sono dozzinali ed economici questo è davvero davvero buono come vedremo adesso proprio nel test ed eccoci con l'interfaccia utente personalizzata di probox ci sono alcune alcune schede che all'interno contengono le applicazioni le possiamo aggiungere semplicemente identica praticamente a quella del minix neo x8 e degli altri box con stesso chipset mlogic abbiamo tre tab all apps more e home poi possiamo andare nelle impostazioni che troviamo qua in more ed ecco che si apre anche qui la seconda scheda con delle cose un pochetto più avanzate wifi ethernet display dove sono alcune cose carine come la possibilità di nascondere la barra qua in basso che io lascio per comodità lo screensaver la possibilità di regolare lo zoom dello schermo tutte cose che già conoscete in più ecco tra un attimo indietro perché c'è questo hdmi auto detection che si è disattivato vi fa vedere quelle che sono le modalità non c'è 4k perché nel firmware attualmente c'è un bug che lo nasconde se non avete una tv 4k ma insomma se l'avete non c'è non ci sono problemi io sono a 1080p 60 hertz advanced è dalla scheda miracast controllo remoto con l'app dedicata il controllo c e c per l'hdmi tutta una serie di altre impostazioni comprese quelle outro per il pass through hdmi speed if e via dicendo la scheda odera vedete qua abbiamo android 4.4.2 il questo è il primo alle ris è la prima release del del firmware perché il box uscito un mese fa praticamente se poi vado su more settings ecco che ho quelle classiche di android allora qua vediamo che abbiamo wifi bluetooth che funziona ho provato pochi istanti fa le mie cuffie bluetooth e vanno benissimo fanno anche meglio del mac ethernet ok memoria vediamo qua abbiamo un disco da 16 giga con ben 10 giga insomma a disposizione 13 giga in realtà a disposizione per l'utente questa è una grande svolta perché solitamente i box come questo hanno soltanto 8 giga di spazio è una memoria e mmc molto molto veloce nei benchmark come poi potete approfondire leggendo la recensione completa torno in home quindi alla nostra home iniziamo vedendo quella che è la navigazione web e vediamo con quattro siti aperti questo è hd blog siamo all'interno di un articolo con un doppio clic mi avvicino con un altro mi riallontano il primo rendering è sempre abbastanza problematico su questi dispositivi un po come succede proprio con anche con i tablet se cambio vado sul sito della gazzetta anche questo al solito il primo rendering è brutto diciamolo se vado su evolution la stessa impressione se vado piano in realtà è tutto ok se faccio una scrollata un pochetto più grande come quella che farei proprio sullo smartphone sul tablet ecco che il rendering si incarta apro diverge infine che probabilmente il più pesante il più pesante di tutti e infatti beh la navigazione web non mi sta piacendo soprattutto rispetto a quella che è l'esperienza utente di tutto il box che poi vedremo è davvero davvero ottima da questo punto di vista forse un firmware un pochetto più maturo farebbe comodo il minix neo x8 che è il diretto concorrente di questo fa meglio però io sotto ho anche chrome che questa è la browser stock se vado su chrome vediamo se cambia qualcosa ho gli stessi siti questa è la home di hd blog la sta caricando ecco qua la home probabilmente chrome ha un rendering migliore sempre qui dopo che avete fatto che avete fatto il primo però beh sì la navigazione web non è il punto forte insomma quello che sto vedendo vado dentro un articolo così lancio anche un video ed ecco ed ecco il video qua siamo in wifi lo ricordo chiaramente mettendo la connettività ethernet guardate il buffer quanto sta andando avanti con l'ethernet si hanno prestazioni migliori qua comunque al di là di questo indicatore che secondo me farlocco perché da sempre segnale alto insomma sono abbastanza vicino al router ma secondo me quello non è proprio affidabile al di là di tutto questo ha un il pro box ha un dual band wifi n ha un'ottima ha un'ottima ricezione l'ho provato anche in una stanza un po diversa e tutto ok tra l'altro c'è un'ottima antenna chiudo questa panoramica browser non proprio positiva come abbiamo visto e vado in quella molto molto migliore che riguarda la riproduzione video qua ho player 4k ma io voglio aggiungere la mia scheda così vi faccio anche vedere come si fa mx player che ho installato poco fa ok quindi lancio mx player e prendo dalla mia schedina usb un po di filmate iniziamo guardando il 4k kimei h264 60 riproduzione perfetta con accelerazione hardware quindi ottima cosa nessun problema questo tipo di filmato e non è proprio lo standard prendo un altro 1080p h264 il sotto filmato di test anche qua riproduzione video quindi sull'h264 non c'è problema questo anche qui è tutto ok mp4 posso provare un mp4 questo ancora riprodotto con l'accelerazione hardware stesso filmato nessun problema siamo in 1080p lo ricordo prendo il vc1 identica cosa e poi passa qualcosa di diverso come questo a close 4 però a 40 megabits un pochetto più pesante anzi un bel po più pesante e vediamo mx player lo stesso con l'accelerazione hardware che senza alcun problema lo riproduce questo è un filmato insomma abbastanza abbastanza impegnativo che non tutti i sock arm riescono a riprodurre almeno quelli più più recenti poi vado avanti e passo con un vc1 1080p vedete c'è diversi problemi di artefatti sullo schermo e poi parte questo è un filmato molto molto pesante stressante per la cpu io praticamente non sono riuscito a riprodurlo quasi mai in modo fluido quasi viene riprodotto si dice qualche micro scatto insomma tutto abbastanza lento però ripeto questo è un filmato proprio estremo questo è un file da un giga e due un giga e tre non particolarmente pesante in termini proprio di di codec ma comunque un più grande degli altri e qui vedete che non c'è affatto non ci sono affatto problemi la riproduzione è perfetta dall'altro il film è molto carino potete scaricarlo gratuitamente vedete anche andare avanti lo skip è ok se però passa qualcosa di ancora più pesante come jellyfish 120 mbps vedete che verrà riprodotto ancora con accelerazione hardware eccolo là ma insomma ci sono degli evidenti rallentamenti qui però ripeto siamo ancora su dei livelli molto alti di qualità in linea di massima se dovete vedere un film non dovete insomma non avete sempre bisogno di arrivare a questo a questi livelli qua e se vado poi avanti riproducendo un h265 di terzo still 1080p 24 film per secondo vedete che anche qua ci sono soprattutto scatti è un effetto slash show ma questo è normale perché il sock non riproduce non supporta la riproduzione hardware degli h265 posso provarlo provare a metterlo in modalità software ma dubito che nonostante i 2 giga del quad core emlogic si riesca a fare qualcosa infatti vedete ma questo è normale ripeto perché questo per riprodurre gli h265 dovremmo aspettare la generazione successiva qua ho anche un altro firmato di testa sempre h265 un pochetto più leggero ma al solito vedete non si riesce ripeto è tutto normale ed è praticamente un bene che sia così perché altrimenti non avrebbe senso comprare i modelli di della generazione successiva che stanno arrivando chiudo e provo a fare qualcosa di simile con xb mc qua c'è installata proprio una versione standard non c'è una ottimizzata come quella minix però come vedremo vado in video e qui provo a raggiungere il mio server di lna o praticamente gli stessi filmati però voglio partire con un h264 anche questo il prodotto bene con l'accenerazione hardware e lo vedete perché se torno indietro nell'interfaccia resta sotto posso provare a cambiare posso provare a lanciare proprio il filmato sintel l'animazione sintel che era quella da un giga e due quindi vediamo anche come funziona lo streaming dovrebbe essere tutto ok sento già il rumore di fondo eccolo qua la riproduzione video è uno dei dei vanti di questo di questo hardware anche migliore del minix neo x8 chiaro non siamo a livelli di perfezione ma quello non credo che si possa raggiungere con macchine da 100 dollari come questa ma insomma c'è molta flessibilità c'è un ottimo hardware c'è un firmware davvero davvero maturo e una macchina che si presta abbastanza bene a questo tipo di utilizzo poi xbmc ha tutta una serie di ottimizzazioni di cose da da sistemare potete installare nuovi plugin potete usarlo come ve lo uso spesso per la musica con il plugin dei karaoke o comunque il plugin con i testi in sovrimpressione insomma xbmc al solito permette una grande flessibilità sulla sulla macchina ed è un bene vederlo così supportato da questo pro box torno nella home faccio l'ultimo test e riguarda proprio i videogiochi la scala grafica qui è una mali 450 buona per i giochi insomma il minix neo fa abbastanza bene qua è un pochetto peggiore un pochetto più lenta perché c'è un bug a quanto pare noto che riguarda la gestione della frequenza il il box dopo qualche ora di utilizzo tende chiaramente a scaldare si arriva attorno ai 50 gradi in tal caso la frequenza viene ridotta dal dal sistema in modo automatico questo significa che non con giochi come questo dopo un po che giocate avete delle prestazioni un po più basse è un po peccato perché il minix neo permette una temperatura più alta e di fatto i giochi sono sono migliori è vero che qua siamo a meno 80 p e secondo me si potrebbe un po un po ridurre comunque avere una buona esperienza di gioco però insomma tante vedremo poi ci saranno dei nuovi firmware proprio per correggere questo questo bug le potenzialità però ripeto ci sono e visto che sto giocando ne approfitto per lasciarvi due buone parole sul gamepad secondario quello da gioco abbinato a questo pro box è davvero buono tra l'altro è uno dei pochi air mouse che sono veramente utilizzabili che non danno ai nervi dopo cinque minuti perché è preciso agidoscopio e accelerometro e probabilmente questo è il motivo che lo rende così che lo rendono così così preciso io in linea di massima sono riuscito ad utilizzarlo non solo per i giochi come sto facendo adesso spremendo il tastino gamepad quindi passando a quella che è la modalità orizzontale ma anche soprattutto per la gestione dell'interfaccia che è una cosa rarissima da fare su questi mini pc dove gli air mouse di solito sono scomodi imprecisi vanno dove dove li pare qua è tutto è tutto ok e sia davvero un'ottima un'ottima esperienza per il resto come vi accennavo abbiamo una delle mmc più veloci nei benchmark tra quelle usate nel nei mini pc e questa è davvero un'ottima cosa abbiamo il risultato antootu più veloce tra del minix degli altri mini pc con lo stesso hardware questa è un'altra buona notizia abbiamo un firmware che supporta le fotocamere questa è l'app fotocamera ed ecco la mia logitech strada sopra la tv che funziona alla perfezione viene vista anche su skype skype che che va che va decentemente bene però vi consiglio ovviamente di usare un microfono diverso da quello integrato nel telecomando per avere una qualità almeno almeno accettabile il supporto miracast funziona bene ho provato su un tablet ho provato su uno smartphone e che altro beh forse manca la possibilità di spegnere il box direttamente dal pulsante perché stranamente si può fare dal telecomando integrato si può mandare in sospensione o si può spegnere del tutto ma non dal pulsantino che è proprio integrato sopra sopra il box e ancora manca il supporto firmware ota che dà un errore ma questo sappiamo che non vedete sappiamo che non è un problema proprio di questo modello ma è più generico riguarda proprio tutti i nuovi mini pc con questo chipset ok che altro dire di questo pro box mi è piaciuta molto la maturazione dell'hardware e del software perché non ho mai avuto un crash non ho mai avuto un blocco delle app non ho mai avuto un problema di incompatibilità con le app nel market che è una cosa comune a questo tipo di dispositivi segno che l'agenda ha fatto davvero un buon lavoro ma segno anche che siamo arrivati ad un livello che fino a poco tempo fa era davvero impensabile in più ottimo questo telecomandino lo ripeto è integrato ma funziona alla perfezione il microfonino è una chicca davvero utile non dovete comprarlo un altro però scegliere tra questo e minix è una scelta molto molto difficile io posso farvi notare che questa configurazione 16 gb con questa memoria tra l'altro così veloce è più conveniente di quella del minix neo però di contro il minix ha un supporto ufficiale e non ufficiale molto più esteso ci sono molte rom questo è appena uscito a un mese di vita tra l'altro è uscito in estate c'è soltanto un firmware disponibile quindi è tutto ancora da dimostrare beh però continueremo a seguirlo perché promette davvero davvero bene trovate maggiori informazioni benchmark test sui giochi e soprattutto i test sui video nella recensione completa che trovate online su hdblog.it